Siamo riusciti tramite il traffico telefonico ad individuare effettivamente da dove partivano queste chiamate, queste telefonate e le telefonate partivano da Napoli. Mentre erano al telefono con questi personaggi, la regia che si trova a Napoli, i due personaggi che poi abbiamo tratto in arresto si portavano presso le abitazioni dei due anziani. Nel primo caso sono stati chiesti 2.300 euro da un fantomatico nipote che chiedeva all'anziano o nonno di ricevere un pacco per suo conto. L'anziano non avendo a disposizione quella somma di denaro si rendeva disponibile a prelevarla presso l'istituto bancario e in questo caso i due napoletani lo hanno addirittura accompagnato presso l'istituto bancario e dopo aver prelevato 2.300 euro sono andati via. Dopo un'ora circa da questo primo episodio i due soggetti sono portati nella zona di Lanciano dove diciamo con il medesimo copione sono stati in questo caso presso l'anziana di Lanciano dove si sono fatti consegnare la somma di 800 euro. Vogliamo ricordare qual è buona norma, come è giusto comportarsi quando si ricevono queste telefonate, quando bussano sconosciuti alla porta, soprattutto in case di anziani. Gli accorgimenti sono quelli che sono un po' i cavalli di battaglia della nostra iniziativa, non lasciarli da soli. Non ci sono, ripeto e ribadisco, forze dell'ordine di qualunque divisa e giubba che possa andare al domicilio di una persona e chiedere il pagamento di una multa in contanti. In banca non recarsi mai da soli ma affidarsi sempre a qualche parente, anche ad un amico, il famoso vicino del pianerottolo che può essere anche importante in maniera tale da non lasciare l'anziano da solo. Sono tutte situazioni che vanno valutate e che, ripeto, devono elevare un po' la coscienza sociale un po' di tutti e della famiglia, perché lasciare l'anziano da solo significa poi lasciarlo in preda di gente senza scrupoli.